al recupero del 4T che non va più il beta al va più al se maserà l'acqua lenda dentro la vena fura più adesso il marco parte se la prova venir su va finì che se mazza la moto ti scommetto quello che vuoi e lo sapevo che gli partiva subito ci avrei scommessi guarda ci avrei scommessi i maroni guarda speriamo che il resto della canzoncina non sia effettivamente così il marco adesso gli da l'impennata la farà una bella gasatona gli sparerà ma di là no eh ma di là no che c'è il sentierino che è più comodo no eh dove sono sceso io e allora scendi un pezzettino e falla di là e che cacchio giù oh e vai su di lì di fianco e che cavolo allora 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 è inutile allora è inutile tutta sta fatica poi l'ha fatta spegnere qui dai pizzala mo dai devi fare come prima marco come ti ho detto mezzo gas due colpettini leggeri a vuoto e poi l'accendi ma dove accenderla accendela fai fatica adesso andiamo a cadare stradine dai basta osti qua c'è giù un'altra pianta anche qua porca tratta non l'avevo vista oh dai che arriva il temporale delle 11 forza andiamo andiamo guarda che lei darà qui che cosa gli ha fatto su sulla pianta impressionante va bene posso spegnere tanto sei nascosto dietro la pianta ah stai registrando è certo marco dove sei non ti vedo dove sei mi sto mettendo in una brutta posizione mi sto mettendo in una brutta posizione mi sto mettendo in una brutta posizione la storia del betarev è questa qua il marco il sesto i figli e il vacca l'alessandro se non l'accende resta nel bosco che cazzo tu potevi venire a prenderli lì ma neanche dai marco però non puoi abbandonare gli amici così eh gliel'hai accesa prima poi gliel'hai abbandonata lì dai però più vicino oh venti minuti di filmato stiamo facendo eh la mia va sempre le ultime parole famose la mia va sempre le ultime parole famose ce la farà il nostro eroe o non ce la farà va aiutarlo eh va aiutarlo la mia va tutto Grazie a tutti.